Si celebra oggi la ventinuesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con iniziative in tutta Italia, la manifestazione nazionale questa mattina a Roma, il presidente Mattarella, la lotta alle mafie e compito e dovere di tutti coloro chiamano la Repubblica e intendono renderne migliore il futuro. Notte di attacchi su Kiev, 31 missili lanciati dalla Russia contro la capitale ucraina, tra cui uno ipersonico, una decina di feriti, Medio Oriente, nuova missione del segretario di Stato americano Blinken. A Bergamo un uomo abbandona due grandi divani in un campo, ma la polizia li trova e grazie alle telecamere di sorveglianza glieli riporta a casa con una multa di 10.000 euro. Buongiorno dal TG2000, oggi dunque, lo avete sentito, si celebra la giornata del ricordo delle vittime delle mafie e ci colleghiamo subito allora con Marino Galdiero che sta seguendo la manifestazione nazionale a Roma per noi. Buongiorno Marino. Buongiorno, qui alle mie spalle c'è il Circo Massimo dove sta parlando Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Qui al Circo Massimo sono arrivati dall'esquilino tantissimi ragazzi delle scuole che hanno invaso questo spazio. Ci sono i familiari delle vittime di mafia che in questo momento hanno ascoltato i loro nomi, i nomi delle vittime dei loro familiari. Un momento molto importante per loro perché è un modo per ricordarli e anche per chiedere giustizia come in qualche modo ha chiesto anche il Presidente della Repubblica con le parole lotta alla mafia è un dovere di chi ama la Repubblica. Ma noi abbiamo raccolto con Stefano Arditi alcune testimonianze di queste vittime. Ascoltiamole. E oggi qui per chiedere cosa? Per chiedere forza, giustizia, legalità, per aiutare i ragazzi, per un po' di tutto, per non dimenticare. Oggi è importante stare qui perché è un nostro dovere l'impegno, lottare e non arrenderci mai per mio fratello e per altro. Insieme alla memoria che cos'è che chiedete? Noi chiediamo veramente, chiediamo un aiuto perché molte volte lottiamo da soli, siamo da soli. Abbiamo bisogno veramente che un impegno, un impegno maggiore dai cittadini che stiano vicino a noi e ci diano aiuto perché molte volte siamo lasciati soli. Ci spostiamo ora in Ucraina dove questa notte almeno 10 persone sono rimaste ferite durante un intenso bombardamento sulla capitale, 31 in tutto i missili lanciati dalle forze russe, abbattuti dalla difesa ucraina. Marco Burini. 757, non è il nome di un aereo, ma il numero dei giorni di questa guerra maledetta voluta da Putin. Il gioco perverso del boss del Cremlino è un incubo senza fine per gli ucraini, compresi gli abitanti di Kiev. Dopo un mese e mezzo la capitale è finita nuovamente sotto una pioggia di missili e droni, grazie a Dio tutti intercettati, ma detriti e incendi causati dalle esplosioni hanno ferito 13 persone. La popolazione si è rifugiata nelle stazioni della metro, la solita snervante attesa che cessi l'allarme aereo. Tutti piegati sullo smartphone, ma uno che legge c'è. Ci sono i bambini da coccolare, qualcuno si è portato il gatto o il cane. Gli animali, si sa, impazziscono per i folli rumori delle guerre tra umani. Eppure noi umani sembrano sappiamo fare altro, armarci, combattere, uccidere. I civili ucraini sono quotidianamente nel mirino dei comandi militari russi. Ieri a Kharkiv almeno 5 morti per l'attacco a un edificio e una fabbrica. Mosca usa addirittura missili ipersonici e Zelensky insiste con gli alleati per avere una copertura antiaerea adeguata. I patrioto qualcosa del genere. Ma ci vuole la volontà politica, dichiara il presidente ucraino, preoccupato per lo stallo americano. Il consigliere per la sicurezza di Biden, Sullivan, ieri era a Kiev per provare a rassicurare gli ucraini. Ma negli Stati Uniti, e non solo, soci e simpatizzanti di Putin abbondano. Il Medio Oriente con una nuova missione del segretario di Stato americano Blinken, oggi in Egitto, poi in Israele, il rischio di carestia. A Gaza, Caterina Dall'Olio. La FAO ha lanciato l'allarme per il rapido peggioramento della crisi alimentare nella striscia di Gaza, dove si prevede una situazione di carestia entro il prossimo maggio nei governatorati settentrionali. E' quanto emerge da un nuovo rapporto pubblicato dall'IPC, un'iniziativa multiparner che fornisce analisi sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione. Dopo le bombe, quindi, sta per abbattersi il flagello della carestia. E' un disastro interamente provocato dall'uomo, ribadisco il mio appello per un cessato il fuoco umanitario immediato. Dobbiamo agire ora per prevenire l'impensabile, l'inaccettabile, l'ingiustificabile. Lo scrive il segretario generale dell'ONU, Antonio Kuterres, in questo post su X, in merito alla situazione umanitaria a Gaza. Ci sono sette mesi di derrate alimentari bloccate, accusa l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza, Josef Borrell, dal palco del Forum Umanitario Europeo. L'UNICEF ha reso noto che oltre 13.000 bambini sono stati uccisi a Gaza durante l'offensiva israeliana, in tutto quasi 32.000 morti. E per gli ultimi aggiornamenti, in particolare sul fronte diplomatico, ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Abuzzetti. Buongiorno Alessandra. Voglio un certo continuo alla pressione internazionale su Israele ed Hamas per arrivare a una tregua, anche se le notizie che abbiamo da qui dal campo non sono molto ottimistiche. Ci proverà ancora il segretario di Stato Blinken, che atterrerà domani a Tel Aviv, una tappa non scontata di questo viaggio in Medio Oriente. Stamattina al Cairo Blinken ha incontrato il presidente Al-Sisi per discutere un cessato il fuoco di sei settimane e la liberazione degli ostaggi. Dall'Arabia Saudita ieri Blinken ha detto che Hamas non ha accettato l'ultima proposta e quindi ha aggiunto altre richieste su cui adesso stanno lavorando i mediatori. Ma il segretario di Stato ha ripetuto anche che la priorità di Israele devono essere gli aiuti umanitari, che stanno entrando più convogli in questi giorni, ma non sono certo sufficienti. Soprattutto ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno redatto una risoluzione dell'ONU per chiedere un cessato il fuoco immediato legato al rilascio degli ostaggi, sperando nell'appoggio degli Stati membri. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno bloccato negli scorsi mesi altre risoluzioni per fermare la guerra. Da Gerusalemme la linea può tornare a Roma. Grazie ad Alessandra Abuzzetti, Ucarina e Medio Oriente saranno al centro del Consiglio europeo che prende via oggi a Bruxelles. È presente la Premier Meloni, Federico Plotti. Sarà un Consiglio europeo incentrato sulle guerre in corso alle porte del vecchio continente, quello che si apre oggi a Bruxelles. Sul tavolo dei capi di Stato e di governo dell'Unione, innanzitutto la questione ucraina, come ormai accade da oltre due anni. In videoconferenza sarà collegato da Kiev anche Zelensky in cerca sempre di sostegno economico e militare, in una guerra di cui al momento non si intravede una fine. Dopo l'ok arrivato anche dall'Ungheria di Orban per un finanziamento da circa 5 miliardi di euro, altri tre potrebbero arrivare così come proposto dalla Commissione dal congelamento degli utili straordinari derivanti dagli asset della banca centrale russa. Difficile però che si arrivi a una decisione già oggi. C'è poi il tema anche questo complicato della guerra a Gaza e dell'azione militare di Israele nella striscia, su cui il Consiglio europeo non ha sempre concordato. Resta un tema divisivo, ma sulla necessità di un cessate il fuoco per la liberazione degli ostaggi e l'arrivo di aiuti umanitari, sono tutti d'accordo, concetto che verrà ribadito anche oggi a Bruxelles. Si attendono poi novità dal segretario generale dell'ONU Gutierrez, arrivato anche lui in Belgio, in particolare dall'indagine delle Nazioni Unite, sull'agenzia che si occupa dei profughi palestinesi, accusata da Israele di aver partecipato con alcuni suoi uomini all'azione terroristica di Hamas del 7 ottobre scorso. Sul tavolo del Consiglio europeo, anche l'allargamento dell'Unione, l'immigrazione e l'agricoltura dopo la rivolta dei trattori scoppiata in mezza Europa. L'infortunio mortale sul lavoro a Lucca, questa mattina intorno alle 8, un uomo di 52 anni caduto all'interno di uno scavo in un cantiere stradale dove sono in corso lavori per una fognatura. La dinamica dell'incidente è da chiarire, perché il corpo era sepolto nello scavo solo per la parte inferiore, indagini in corso da parte degli inquirenti. E sbarcheranno oggi a Ravenna i 71 migranti soccorsi in mare da una nave di emergency tra questi tre minori di cui due non accompagnati. 200 gli arrivi. Nelle ultime ore invece a Lampedusa, Beatrice Bossi. Si ballava questa mattina sulla nave di emergency attraccata al porto di Ravenna. I 71 migranti a bordo sono sbarcati intorno alle 9, dando la precedenza ai più fragili. Tra loro una sola donna, due minori senza famiglia e un ragazzo che è stato trasportato immediatamente in ospedale. A Marina di Carrara invece si fanno i conti con il ventesimo fermo amministrativo nei confronti di una nave umanitaria. Stavolta sarebbe la Geo Barrens ad aver violato il decreto piantedosi 20 giorni a motore spento e centinaia di vite lasciate in mare. La pena da pagare, ma i medici senza frontiere hanno già annunciato ricorso. Secondo l'accusa, avrebbero impedito alla Guardia Costiera Libica il soccorso dei migranti durante l'operazione del 16 marzo. Le immagini registrate a bordo della nave testimoniano quanto avvenuto. Durante quel soccorso la Geo Barrens stava soccorrendo 146 persone quando la Guardia Costiera Libica è intervenuta con un pattogliatore tra l'altro regalato dall'Italia un anno fa, bloccando le operazioni di soccorso mettendo in pericolo la vita delle persone sul barchino e minacciando tra l'altro il personale di medici senza frontiere. Intanto nella notte altri 196 migranti sono stati salvati dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza a largo delle coste di Lampedusa. tre diversi barchini con a bordo siriani, sudanesi, egiziani, pakistani e bengalesi. Tutti partiti dalla Libia hanno detto, ammettendo di aver pagato 5.000 euro a testa per la traversata della morte. È un gruppo di migranti ospiti in un centro di accoglienza temporanea a Panama. Si è rivolto questa mattina il Papa con una lettera non siete uno scarto ma fate parte della famiglia umana e della famiglia dei figli di Dio. Paolo Fucini. Vorrei essere di persona con voi adesso, scrive Francesco. E anch'io, aggiunge, sono figlio di migranti rimasti in certi momenti senza nulla, affamati, con le mani vuote ma il cuore invece pieno di speranza. Lettera firmata e inviata oggi al di là dell'Atlantico, Alias Blancas, a un gruppo di migranti ospiti di un centro di accoglienza temporanea sopravvissuti alla traversata del Darien, 200 e passa chilometri a piedi dalla Colombia a Panama in una foresta piena di pericoli naturali e non solo, incluse bande criminali che storcono soldi e violentano le donne. Tutto questo però non è bastato a scoraggiare i 500.000 che già l'anno scorso l'hanno attraversata, calcola il governo panamense e non da turisti in cerca di avventure. Sono venezuelani, ecuadoregni, colombiani, haitiani, ma ci sono anche migranti del Centro America e di altri continenti. Non dimenticate mai la vostra dignità, le incoraggia Bergoglio, perché non siete uno scarto ma parte anche voi della famiglia umana e della famiglia dei figli di Dio. E non manca un cordiale grazie a chi mi rappresenta di fronte a voi, scrive Francesco, vescovi e operatori pastorali che portano speranza e sollievo nella via crucis della migrazione. Stop agli stereotipi e lo slogan della odierna giornata mondiale della sindrome di Down, Giorgio Bresciani. In Italia circa un bambino su mille nasce con la sindrome di Down e sono circa 38.000 le persone Down in Italia, 23.000 delle quali già adulte, una cifra che raggiunge i 5.400.000 a livello mondiale. E la durata della vita è aumentata enormemente negli ultimi 50 anni. Grazie al progresso della medicina, oggi l'80% delle persone con sindrome di Down raggiunge 55 anni e uno su 10, 70 anni. Anche in termini di autonomia e qualità della vita si stanno facendo passi avanti, ma c'è ancora molto da fare. Un'indagine condotta dall'Associazione Italiana Persone Down poco più di un anno fa rileva infatti che quasi il 45% degli over 45 con sindrome di Down non fa nulla e sta a casa, perché sul territorio mancano servizi e risorse adeguate. Questo a causa del peggiore degli stereotipi, quello che considera le persone con sindrome di Down eterni bambini, mai adulti. Per questo il messaggio della giornata mondiale della sindrome di Down scelto per quest'anno è stop agli stereotipi. È fondamentale superare le concezioni limitanti e preconcette che spesso le circondano, perché le persone con sindrome di Down non solo possono autogestirsi, ma anche prendersi cura degli altri. Basta accompagnarle, sostenerle e dar loro fiducia. Ha abbandonato ai lati di una strada due grossi divani da tre posti ciascuno. La polizia locale gliele ha riportati indietro insieme ad una multa da 10.000 euro. Raffaella Frullone. Si è visto arrivare un camion in giardino che ha scaricato sul prato due grossi divani, gli stessi, che aveva abbandonato in una zona periferica del paese per sbarazzarsene. È accaduto ad un 43enne di Rimini, residente a Romano di Lombardia, nella bassa bergamasca, dove la polizia locale da qualche tempo ha abbracciato la linea tolleranza zero quando si parla di smaltimento rifiuti. Non è infatti la prima volta che gli agenti individuano i furbetti della spazzatura e recapitano loro quello che è stato abbandonato nel modo sbagliato. Questa volta ad essere restituito al mittente è stato un divano, anzi due. La polizia locale ha filmato la singolare operazione e corredato il video con una scritta ironica «hai smarrito qualcosa?». Oltre a questo, al cittadino è stata consegnata una sanzione da 10.000 euro, ovvero la cifra massima prevista dalla legge 173 del 2023. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. A notare i due ingombranti rifiuti sono stati i cittadini all'alba. Il trasgressore è stato individuato analizzando i filmati delle telecamere cittadine, un monito per tutti i potenziali furbetti della zona. Spazio ora alla cultura con la nostra rubrica terza pagina curata da Saverio Simonelli. Ma prima di salutarvi vi ricordo che questa edizione del telegiornale e tutto il resto della nostra programmazione sono disponibili, come sempre, sulla nostra app Play 2000. Grazie per averci seguito. A più tardi. Persi nell'inevitabile venerazione per l'antichità classica della Caput Mundi, spesso non pensiamo ai gioielli dell'età barocca che Roma conserva, avvolte nell'ombra delle sue viuzze sghembe profumate di pioggia. Ecco allora che salutiamo con piacere Secret Baroque, una nuova doc web serie curata da Alessia Ciccarelli con la regia di Lorenzo Zeppa e promossa dall'Università di Roma alla Sapienza. Dalla biblioteca lancisiana Santivo alla Sapienza, da Palazzo Spada al Casino dell'Aurora, di Palazzo Pallavicino, fino al Borgo di Poli, potremo scoprire, grazie a questa serie, i tesori storico-artistici, secreti di luoghi poco conosciuti oppure di difficile accesso. Sei sono gli episodi previsti per la serie che andrà anche a ripescare quadri e affreschi, a volte trascurati per la quantità di bellezza che quasi li nasconde e li sovrasta. Il 25 marzo la data prevista per il lancio. Non ci resta che guardare. Si canta in dialetto veneziano sul palco del Teatro Filarmonico di Veroni, in un'opera ispirata a Carlo Goldoni, ad una delle sue commedie più poetiche e malinconiche, quelle che parlano del Carnevale, della nostalgia di Venezia, e della città lagunare, la vera protagonista del Campiello, una commedia dello scrittore veneziano che nel 1936 il compositore veneto-tedesco Ermanno Wolferrari mette in musica. Venezia protagonista, protagonista il Campiello, la piazzetta, tra i canali su cui si affacciano le case, il Dussiette e Gnese, Zorzetto e Anzoletto, delle vecchie Donna Cate e Donna Pasqua, alle prese con pettegolezzi e baruffe, amori e disillusioni. Sorrisi ma anche lacrime, quelle che scorrono sul viso di Gasparina, mentre alla fine, cantando un malinconico Addio Venezia, lascia la piazzetta dove è cresciuta per seguire il suo cavaliere. In lontananza, tra le calli, appare una nave da crociera di quelle che oggi arrivano non senza polemiche davanti a San Marco, cortocircuito tra la Venezia settencentesca di Goldoni e quella di oggi voluto dal regista Federico Bortolani. Sul podio, il veneziano Francesco Massini, in scena tra gli altri, Bianca Tognocchi, che è Gasparina, Biagio Pizzuti, che è il cavaliere, Lara Lani e Matteo Roma, che sono Gnese e Zorzetto. Per convincersi, guardando con una malinconia al campiello, che non se bel quel che è bel, ma se bel quel che piace. Grazie a tutti.